Allora, voglio iniziare questo video in maniera diversa, rubando una frase al mio ex capo, nonché fondatore di Colorado Film, azienda per la quale ho lavorato per 5-6 anni come social media manager. Lui ripeteva sempre questa frase, che forse non era sua, ma la ripeteva tante 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 volte. Diceva, poco se mi valuto, molto se mi paragono. Perché voglio iniziare con questa frase? Perché oggi ho visto la Juventus nel derby e ripensavo al mio Milan. Guardavo Allegri e pensavo a Pioli. Sapete che dopo aver visto Allegri oggi, ma non solo oggi, la mia visione di Pioli sta cambiando da Pioli out a... Ma sai che è tutto sommato, Pioli? Lo posso dire? In confronto ad Allegri e il nuovo Pep Guardioli italiano! Chiedete scusa a Pioli! Pioli in! Pioli in! Pioli in, santo Dio! Minchiate a parte, signori! Buonasera! Buon sabato sera! Ma minchiate a parte se in un certo punto, ragazzi, perché la partita di questa sera, e non solo, ovviamente, quella di questa sera, perché è una partita storta può capitare, mi ha proprio annoiato. Ma mi sono fatto due palle così. Dicevo, dai, resisti, resisti, succederà qualcosa, cambierà un... niente! Piattume totale! Piattume totale! Ovvio, ragazzi, quella di prima è l'esagerazione. Non dico che Pioli sia il nuovo guardiolo italiano. Però è vera quella frase, no? Se tu guardi un qualcosa, dai un giudizio. Se poi paragoni quella roba lì a qualcos'altro, il giudizio può cambiare in meglio o in peggio. E obiettivamente capisco tanti gioventini che dicono, ma cosa vi lamentate voi? Ma guardate come siamo messi noi? Ed è vero! È assolutamente vero! Ragazzi, derby noiosissimo per quanto riguarda la Juventus. Ditemi subito, ragazzi, allegrino o allegri out? Voglio sapere la vostra specificata se siete ovviamente juventini o meno. Se siete qui per sbaglio, ragazzi, lasciate un like. A prescindere, se non mi conoscete, iscrivetevi. Sono un milanista, ma amo parlare di calcio a 360 gradi. Grazie, ovviamente, a chi lo farà. Non vi costa nulla. E' ovvio che guardavo anche questa partita nell'ottica Milan, perché io voglio arrivare secondo quest'anno, no? Se il Milan è a 68, la Juve è a 62, questo pareggino la porta a 63, quindi rimane a 5 lunghezze di distanza. Il Milan, ovviamente, poi ha anche una partita in meno. Quindi, bene, bene, sono contento del risultato, ovviamente. Però se poi guardo la partita da sportivo e non da milanista, dico, mamma che noia! Mamma che noia! Cioè, con tutto il bene per il Torino, ci stiamo parlando della nona, decima forza del campionato. Poi, storicamente, la Juventus, i derbi, bene o male, riesce sempre a portarseli a casa. Anche in maniera sporca, se vogliamo. Oggi, veramente, 0-0-0. Nel primo tempo, qualcosina la Juventus ha fatto vedere. Vlaovic si è mangiato un gol, santo Dio, che per carità succede. Guardate Giroud, per dire, no? Che di solito quei gol li fa, lì in Europa League, si è scagato sotto e l'ha tirata all'altraversa. Stesso discorso per Vlaovic. Secondo me sono due errori molto, molto simili. Perché di solito Giroud fa quei gol e di solito Vlaovic fa quei gol. L'errore di Vlaovic rientra in una serata storta in generale per la Juventus, in un periodo storto. Io capisco anche la tanta confusione che c'è in casa Juventus. Come vedete, questi dirigenti che a stagione in corso vanno, vengono. Anche il discorso di Allegri, che ovviamente non dà stabilità. E qui mi ricollega Pioli, no? Perché, come vi ho detto in un video, adesso la società sta premendo molto sul non dare la conferma ufficiale di Pioli prossimo all'anno. Cioè, che sarà il prossimo allenatore del Milan. Che sarà ancora lui il allenatore del Milan per il prossimo anno. Anche se secondo me non è certo. Perché? Perché si vuol dare quella sicurezza all'ambiente, quella stabilità all'ambiente. Non c'è rinnovo, però io comunque da dichiarazioni qua e là, una volta uno, una volta il Presidente, una volta Furlane. Cioè, lascio trapelare che ci sarà continuità per il prossimo anno. Stessa cosa ha fatto praticamente Giuntoli nel pre-partita. Perché dice, siamo molto concentrati sul presente. A inizio anno, con società e allenatore, ci siamo posti degli obiettivi e siamo in linea con quello che volevamo fare. Cercando di arrivare in Champions League, in finale di Coppa Italia, valorizzando tanti ragazzi, eccetera, eccetera, eccetera. Dicendo anche che ci metteremo a sedere con il mister, che ha un anno di contratto e sta facendo un grande lavoro. E ha specificato anche che con il mister si sta parlando già di calciomercato. Vi dico la verità, non credo e spero di no per i tifosi giuventini che Allegri sarà il prossimo anno. Anche lui, lo stesso allenatore anche nel prossimo anno. Perché obiettivamente, ragazzi, quest'anno, al di là dei punti, al di là di tutto, veramente una Juve fiacca, 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 fiacca. E quindi mi auguro per loro che si possa cambiare. Molti sono rimasti stupiti da queste dichiarazioni di Giuntoli, sinceramente. Facendo il discorso di prima per il Milan, penso che siamo su quella falsa liga lì, vale a dire, la società che cerca di dare per queste ultime 6-7 partite che sono rimaste un minimo di stabilità nell'ambiente. Poi magari internamente sapranno che invece i giochi sono già fatti, che Allegri andrà via e quindi questo giochino funziona fino a un certo punto. Però, vi ripeto, non mi stupiscono le parole di Allegri, mi stupisce più che altro il secondo tempo della Juventus. Vi ripeto, nel primo tempo crea qualcosina, Locatelli, Vlaovic per un paio di volte. Una volta sbaglia lui, un'altra volta è molto bravo il portiere. Però poi, ragazzi, nel secondo tempo, quando la partita entra nel vivo, la Juve esce, anzi non entra mai in campo, rimane negli spogliatoi e rischia anche di subire gol. Perché nel secondo tempo è andato molto più vicino il Torino al vantaggio che la Juventus. Ed è grave, ragazzi, perché un conto è dire, vabbè, siamo lì, abbiamo raggiunto l'obiettivo, tipo l'Inter. Io adesso ho qualche partita fiacca dell'Inter, me la posso anche aspettare. Poi magari non succederà neanche, perché sono tutti settati a mille. Però capisco, capisco il calo di concentrazione da parte di una squadra che ha vinto lo Scudetto, non sta più in Europa. E quindi ha veramente poco da dire, no? Le prossime partite, se l'Inter dovesse perdere, amen, non muore nessuno. La Juventus in realtà è ancora nel pieno della stagione, perché c'è il discorso Coppa Italia. In campionata è terza, ma comunque il Bologna, se dovesse vincere oggi, andrebbe a meno due, se non ricordo male. Poi c'è la Roma che devi giocare. Poi per carità, quest'anno, se tutto va bene per le italiane, me lo auguro per le italiane, andranno in Champions le prime cinque. Leggevo che c'è il 99,8% di possibilità che questo avvenga. E vi ripeto, me lo auguro. E però mancano ancora per la Juventus sei partite, sotto i 18 punti, non sono pochi. Quindi, se inizia a scricchiolare e quelle di sotto continuano a galoppare, è un attimo, è un attimo, è un attimo. Per carità, l'Atalanta è a 50 punti. Però ricordiamo che l'Atalanta ad oggi ha due partiti in meno rispetto alla Juventus. Quella che giocherà, quella che deve recuperare con la Fiorentina, è quella che giocherà lunedì col Verona. Quindi, potenzialmente, l'Atalanta potrebbe essere a 56, con i 6 con i ma, ovviamente. Quindi, vedendo anche i calendari, secondo me la Juventus è abbastanza tranquilla. È abbastanza tranquilla. Però, 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 non è così tranquilla da potersi permettere, secondo me, queste non partite. Tant'è che avevo preparato questa scritta qua. Analisi della non partita. Ma c'è anche poco da dire, obiettivamente. C'è anche poco da dire. Detto questo, ragazzi, ditemi cosa ne pensate. Ditemi, secondo voi, questo Allegri merita o meno. Perché magari c'è qualcuno che dice, no, l'obiettivo è stato raggiunto, quindi è giusto così. Per me è poca roba. Per me è davvero poca roba, per la storia della Juventus, per il potenziale che ha questa squadra. Perché sicuramente ha delle defezioni in alcune zone del campo, quello sì. Però mi lascia perplesso il non gioco. Alcuni giocatori che sono stati usati tanto, Ilditz, tutti, ma non solo lui. In alcuni momenti della stagione poi sono stati completamente buttati nel dimenticatoio. Adesso vengono messi così nella mischia, un po' a casaccio. Questo era un anno importante per la Juventus. Perché non avendo le coppe europee, veramente aveva tutto il tempo di preparare le partite di settimana in settimana. Con una settimana piena. Ecco perché sinceramente pensavo potesse dare decisamente filo da torcere per lo scudetto. Io mi aspettavo anche il Milan in corso. Invece l'Inter abbiamo visto che ha fatto un campionato a sé, no? Ma la Juve non ha sfruttato questo anno zero. Questo anno zero doveva sfruttarlo senza coppe per questa esclusione forzata. Doveva essere davvero l'anno della rivoluzione questo. Invece è andata come è andata. Ovviamente da milanista. Sono super contento. Detto questo vi saluto, vi ringrazio. Qui il tastino per iscrivervi. Qui per il mio store. E altri due video che potete guardare. Per adesso è tutto. Ci vediamo domani. Evito il video delle sette perché a meno che non c'è qualcosa di interessante. Altrimenti ci vediamo direttamente per la live reaction del post partita del Milan. A domani. Ciao.